In sei, forse sette scuole del Veneto verranno installati dei moduli prefabbricati per ampliare il numero di aule e ridurre la possibilità di contatto tra gli studenti. Due a Verona, uno a Padova, Belluno e Rovigo e un altro forse a Vicenza. Sono quelle strutture provvisorie che sono state usate anche per esempio nel terremoto dell'Emilia Romagna e dell'Abruzzo, proprio in relazione alle scuole pericolanti. Quindi sono vere e proprie aule scolastiche, solo che vengono montate con dei prefabbricati sostanzialmente in spazi adiacenti all'edificio principale della scuola. Un caso particolare a Venezia, dove a liceo Foscarini, in città, la chiesa sconsacrata che c'è all'interno verrà divisa in aule e riscaldata. I prefabbricati invece verranno messi a disposizione dalla Protezione Civile Nazionale oppure da province o comuni. In gran parte delle scuole del Veneto proseguono i contatti con parrocchie e denti locali per trovare altre aule fuori sede. È in corso una lunga e fondamentale riunione tra i dirigenti scolastici regionali, il ministro Azzolina, il commissario Arcuri, l'Associazione Comuni Italiani, quella delle province e i sindacati della scuola. Il Veneto ha espresso un fabbisogno di 56.000 banchi monoposto e in un numero abbastanza limitato, devo dire, di sedute didattiche innovative. Materiale che la Palumbo auspica arrivi il prima possibile. In questo anno scolastico particolare anche in Veneto servirà più personale docente e no. Il nostro fabbisogno aggiuntivo è di 3.600 docenti e 2.800 collaboratori scolastici. Grazie a tutti.